Il 6 settembre lo sbarazzo, un'iniziativa promossa dal Consorzio Shopping in Teramo Centro con la collaborazione del Comune, un pomeriggio di musica e commercio per dare uno slancio alla rigenerazione delle attività, una manifestazione che inizierà al pomeriggio per arrivare fino a sera, quindi non un evento fine a se stesso, ma un ricco programma in cui la merce sarà a prezzo di realizzo. Tutta l'iniziativa verrà dedicata a Dario Sfoglia, commerciante storico e punto di riferimento per il commercio teramano deceduto la settimana scorsa. Una manifestazione che avevamo già organizzato, purtroppo il nostro collega è venuto a mancare da qualche giorno, siamo veramente ciocolti di sorpresa perché sinceramente pensavamo che sarebbe riuscito a partecipare a questa manifestazione. Lo sbarazzo è praticamente il fulcro della manifestazione. Diverse attività del centro storico metteranno in vendita prodotti a prezzo di realizzo che saranno esposti dentro e fuori le attività. Per quanto riguarda queste manifestazioni sono sempre utili comunque a ravvivare un po' Teramo Centro e le sue attività? Certamente, certamente, qualsiasi cosa che si faccia, certo, come si è detto prima, cioè magari fare un programma perché fare un concerto in piazza in fine serata è una cosa fine a se stessa, invece se il concerto in piazza come in questo caso, che poi sarebbe il finale della manifestazione perché nel pomeriggio il centro sarà rivitalizzato da diversi eventi, ci saranno la Mob Better Band, il gruppo musicale Braga, il Circo Zaire, due gruppetti locali, quindi diciamo che insieme allo sbarazzo ci sarà un pomeriggio di musica, di arte e di spettacolo.